Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo quanto atteso episodio di FIFA Lab perché dopo il primo episodio, quello dove simulo la Serie A fino al 2036 che tra l'altro vi lascio qui da qualche parte ho ricevuto una marea di like e di visualizzazioni su quel video di conseguenza ho deciso di portarne un altro ma questa volta non simulando un campionato nello specifico ma andando a vedere al termine dell'anno 2030 non quindi fino al 2036 i risultati delle varie competizioni europee quindi Champions League, Europa League e Conference League con i relativi bomber Eriki ma perché non ce li porti fino al 2036? Non li porto fino al 2036 semplicemente perché da una certa data in poi ragazzi i giocatori sono tutti sfanculati perché sono tutti regen o giocatori inventati di sana pianta quindi andremo a perdere, a parer mio, un po' di interesse nel valutare i miglioramenti o i risultati di alcuni giocatori quindi prima di cominciare come al solito lasciate un like al video iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto e attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove uscite Cominciamo subito Il primo anno si conclude con la vittoria della Champions League da parte del Bayern Monaco in finale contro il Real Madrid quindi per il momento nessuna grandissima sorpresa perché sono due squadre che in finale della Champions League ci possono stare Per quanto riguarda l'Europa League si aggiudica il titolo Illipsia battendo in finale il Lione per 2-1 mentre la Conference League viene vinta anche nel videogioco dalla Roma per 2-1 in finale contro il Tottenham e mi viene da ridere semplicemente perché non è la prima volta che sto registrando questo video ma è già la seconda e in entrambi i casi al primo anno la Roma si aggiudicava questo titolo così come nella realtà Ragazzi è incredibile questa cosa ma non perdiamo tempo e andiamo subito a vedere la classifica marcatori delle tre competizioni Il capocannoniere del primo anno ovvero 2021-2022 della UEFA Champions League è Müller del Bayern Monaco con 8 reti Per quanto riguarda invece la UEFA Europa League se lo aggiudica Joaquin anche se a pari merito con altri 4 giocatori ovvero Iglesias sempre del Real Betis Silva e Sigankov Sigankov non so chi sia non l'ho mai sentito probabilmente sono scemo io ma entrambi dell'Ipsia tutti e 4 chiudono a 6 reti ci sarebbe anche da dire che comunque Joaquin ha giocato solamente 8 partite rispetto agli altri perché ne hanno giocate rispettivamente 9 e 10 quindi come media goal sicuramente molto meglio Joaquin e in UEFA Europa Conference League questa competizione è un nome che non finisce più ragazzi il titolo di capocannoniere se lo aggiudica Mkhitaryan con 10 reti in 13 partite ragazzi uno sfracello soprattutto perché lui non è una prima punta non è un attaccante di ruolo quindi tantissima roba e mentre incrociamo le dita e speriamo di non essere esonerati andiamo avanti con la simulazione fino a giugno 2023 per andare a scovare i risultati delle competizioni europee anche per questa annata qui anche per questa stagione qui perché stiamo parlando del 2022-2023 e quest'anno ragazzi finisce un po' a sorpresa la Champions League con la vittoria del Borussia Dortmund sulla Juventus non tanto perché la Juventus perde una finale questa non è assolutamente una sorpresa quanto per il Borussia Dortmund perché sinceramente con tutte le squadre che potrebbero essere le pretendenti per il titolo insomma ritrovarsi il Borussia Dortmund che non ha questa grandissima rosa fa un po' pensare e fa pensare anche la vittoria della UEFA Europa League da parte del Paris Saint Germain ovviamente sempre in finale contro il Tottenham che arriva alla fine per due anni di fila e due anni di fila la perde fa pensare perché il Paris Saint Germain con la rosa che ha a disposizione si gioca solo l'Europa League ragazzi incredibile incredibile tra l'altro un Paris Saint Germain che non è stato retrocesso dai gironi di Champions League ma era inserito direttamente nella fase a gironi dell'Europa League quindi in campionato non deve essere andata proprio benissimo lo scorso anno ragazzi incredibile incredibile la Conference League è stata vinta per il secondo anno consecutivo sempre dalla Roma questa volta 3 a 2 in finale contro il Trabzonspor io ragazzi ma la Roma c'è l'abbonamento a questa coppa o cosa? e i marcatori sono Holland nel Borussia Dortmund per quello che riguarda la UEFA Champions League con 10 reti Kylian Mbappé per la UEFA Europa League ma non poteva essere altrimenti anche se sinceramente arriva a pari merito con Joao Felix dell'Atletico Madrid e credo proprio che lo scettro lo daremo a lui perché ha giocato una partita in meno sì ragazzi per decidere il capo cannoniere di ogni torneo in caso di arrivo a pari merito di due o più giocatori guardo le partite giocate perché se no ci sarebbero 800 miliardi di capo cannonieri ogni anno quindi quindi quest'anno Joao Felix è sicuramente il capo cannoniere per lo meno per noi dell'Europa League perché ha giocato una partita in meno di Kylian Mbappé e in Conference League attenzione ci sarebbe Bowen del West Ham con sette reti ma a pari merito proprio per la regola che abbiamo citato prima arriva anche Pellegrini della Roma con sette reti ma avendo giocato una partita in meno è lui il nostro giocatore il nostro bomber della Conference League per l'anno 2022 2023 tra l'altro volevo solamente farvi notare che al terzo posto è arrivato un certo Mimmo Berardi della Real Sociedad ragazzi della Real Sociedad e mentre il nostro overall allenatore si fa sempre più basso quindi nonostante stiamo continuando a vincere campionati su campionati con il nostro Ajax la dirigenza ci vuole cacciare andiamo a vedere i risultati della stagione 2023 2024 questa volta partiamo dalla Conference League sperando che la Roma abbia lasciato il podio a qualche altra squadra perché non ne possiamo più di vedere la Roma vincere la Conference League sarà così? Vediamo sì sarà così perché addirittura questa volta il Royal Antwerp vince in finale di Conference League 3 a 1 contro incredibile rullo di tamburi la Juventus ragazzi la Juventus crollo pazzesco della squadra bianconera di Torino che si ritrova non solo a giocare una finale di Conference League che per gli standard della squadra sarebbe già una nota dolente ma addirittura a perderla contro il Royal Antwerp penso proprio che si legga così non sono proprio esperto andiamo a vedere la finale di Europa League che cosa ci regala ci regala un Atletico Madrid Leicester City che già ci può stare vinta ovviamente dall'Atletico Madrid per 1 a 0 ovviamente non è detto però ha vinto quindi 1 a 0 per l'Atletico Madrid mentre la Champions League viene vinta dal Barcellona nuovamente in finale contro il Borussia Dortmund per quanto riguarda la classifica capocannonieri quest'anno in Champions League non c'è nessun parimerito perché viene vinta da Dembele del Barcellona con 10 reti fa piacere vedere che Timo Werner è stato acquistato dall'Inter e che forse è tornato agli standard di quando giocava all'Ipsia perché è il secondo marcatore in classifica con 8 reti in Europa League invece primeggia Berterame del Braga con 10 reti e addirittura in Conference League del Royal Antwerp Piontek con 10 reti in 9 partite una media clamorosa ovviamente non poteva che non arrivare il nostro esonero ragazzi lo stavamo solamente aspettando stavamo contando i minuti e di fatti è arrivato quindi dobbiamo scegliere una nuova squadra speriamo sempre in R divisi e sì c'è solamente il Go Head Eagles e noi l'accettiamo tanto noi sostanzialmente ci interessa solamente avere accesso alle classifiche quindi di quale squadra alleniamo non ci interessa niente per quanto riguarda l'anno 2024 2025 la Coppa dei Campioni se la giudica il Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain che due anni prima si era aggiudicato l'Europa League questa volta a farne le spese è il Real Madrid penso e spero ancora di Carlo Ancelotti non lo so non ne ho idea chi sia l'allenatore nel 2024 2025 del Real Madrid l'Europa League finalmente viene vinta da una squadra italiana dal Milan 2-1 in finale contro il Siviglia mentre la Conference League viene vinta dal PSV Eindhoven contro l'Austria Vienna penso sia Austria-Vienna per 3-2 andiamo immediatamente a vedere le non la ma le classifiche marcatori e questa volta sì in Champions League ce la fa Kylian Mbappé a portarsi a casa la scarpa d'oro della maggiore Coppa europea con 7 reti sempre per il discorso delle partite giocate ne ha giocate 13 contro un Pacchettà che ne ha giocate ben 16 e in un mondo parallelo come potete vedere Insigne è rimasto a Napoli ed è arrivato terzo in classifica marcatori della Champions League con 6 reti in Europa League la scarpa d'oro finisce a Duran del Siviglia subito dietro c'è Milik ha 10 reti in 10 partite così come Daka dell'Everton che non sono risultati per niente malvagi ragazzi mentre in Conference League primeggia Olm del Rosenborg con 9 gol in 10 partite ok ragazzi stagione 2025 2026 andiamo a vedere chi si aggiudica la Champions League e quest'anno è l'Inter incredibile l'Inter in finale contro il Paris Saint Germain lo stesso Paris Saint Germain che aveva vinto l'edizione la stagione precedente prima italiana che riesce a vincere ad aggiudicarsi la Champions League la UEFA Europa League viene vinta sempre da una squadra italiana questa volta dalla Lazio in finale per 2 a 1 contro lo Sporting Lisbona e non lo so non lo so magari forse perché ci spero ma spero proprio vivamente che sia sempre una squadra italiana ad aggiudicarsi la Conference League vediamo vediamo se sarà così no esattamente no perché questa volta la Conference League viene vinta dall'Atletico Bilbao per 3 a 1 contro la Dinamo Zagabria e i marcatori sono per la Champions League Salah del Liverpool che chiude a 11 reti in 12 partite da notare come l'Inter abbia creato una grandissima squadra perché ha Son nel tabellino dei marcatori come terzo a 7 reti e Isaac sempre a 7 reti quindi a pari merito con Son Paulinho dello Sporting Lisbona in Europa League chiude a 9 reti mentre Duran dell'Atletic Club Bilbao chiude con un risultato impressionante la Conference League perché mette a segno la bellezza di 14 centri se non erro fino a questo momento è il maggior numero di reti realizzate non solamente nelle edizioni di UEFA Conference League ma addirittura di tutte e tre le competizioni europee che abbiamo visto per il momento in questa simulazione e partiamo con la simulazione della stagione 2026 2027 riuscirà l'Inter a mantenere il titolo di campione d'Europa oppure cederà lo scettro a un'altra squadra no ragazzi non c'è riuscita perché l'edizione 2026 2027 della Champions League se la giudica l'Atletico Madrid per 4 a 2 in finale contro il Barcellona mentre l'Europa League viene vinta dal Ren in finale per 2 a 1 contro il Liverpool non so che cosa sia successo a Liverpool per finire in Europa League e la Conference League torna in Italia perché viene vinta per 2 reti a 0 contro il Valencia dalla Fiorentina finalmente dopo non so quanti anni un titolo europeo per la squadra toscana il miglior marcatore della Champions League per l'anno 2026 2027 è Farias dell'Atletico Madrid con 9 reti nuovamente Salah per il Liverpool ma questa volta non in Champions League ma in Europa League chiude dopo 13 partite a 10 centri e per l'Europa Conference League si posiziona al primo posto Bailey dell'Aston Villa con 8 reti che se proprio vogliamo dirla tutta arriva a pari merito con Greenwood della Fiorentina e Moreno del Valencia ma avendo giocato una partita in meno ovvero 12 contro le 13 degli altri due si aggiudica la scarpa d'oro per l'anno 26-27 e quando siamo arrivati nell'anno 2027-2028 il Manchester United si aggiudica la Champions League in finale contro il Paris Saint-Germain poverini poverini questi francesi sono finiti addirittura in Europa League svariate volte in Conference League hanno perso una marea di finali di Champions League e anche quest'anno da buona tradizione hanno perso mentre l'Europa League se la giudica il Bayern Monaco in finale contro il Villareal per 2-1 anche il Bayern Monaco bene ma non benissimo e la Conference League viene vinta ai rigori ragazzi dopo praticamente non so quanti anni è la prima finale che si decide ai calci di rigore dall'Everton per 5-4 partita che termina sull'1-1 contro la Real Sociedad e per il Manchester United si posiziona in prima posizione nella classifica marcatori della Champions League Haller con 10 reti in Europa League invece la scarpa d'oro va a Ferreira dell'Herta Berlino che chiude a 9 reti in 10 partite e in Conference League Oyarzabal della Real Sociedad chiude a 12 centri in 13 partite Ruben Neves dell'Everton chiude secondo con 8 penultima stagione per noi ragazzi perché siamo nel 2028-2029 andiamo a vedere subito chi si aggiudica la Champions League e quest'anno se la giudica il Borussia Dortmund 2-1 sempre a farne le spese il povero poverissimo Paris Saint-Germain non per quanto riguarda il conto corrente ma per quanto riguarda i risultati perché nonostante abbia una squadra infernale infernale non riesce a portarsi a casa una Coppa dei Campioni che sia una da 3 o 4 anni forse anche qualcosa di più perché se non erro l'ultima la vinta nel 2024-2025 l'Europa League se la giudica il Siviglia ai danni dell'Everkusen per 3-2 e la Conference League viene vinta dal Granada per 5-4 ai rigori contro il Lipsia seconda finale di fila di Conference League che viene decisa ai calci di rigore e la classifica a marcatori recita che Haaland del Borussia Dortmund chiude primo a pari merito con Joao Pedro che è passato al Milan con 8 reti ma la classifica a marcatori per l'anno 2028-2029 di Champions League se la giudica Joao Pedro perché gioca una partita in meno di Haaland in Europa League Calvo chiude al primo posto con 8 reti giocatore del Siviglia mentre in Conference League chiude al primo posto Guirassi dello Stedren con 11 reti e mentre noi non siamo ancora stati esonerati per la seconda volta per miracolo andiamo a simulare l'ultima stagione di questo video ok ragazzi stiamo per scoprire la squadra vincitrice della Champions League nell'anno 2029-2030 secondo FIFA e quest'anno se la giudica il Chelsea per 2-1 contro il Leicester mentre l'Europa League viene vinta dall'Atletico Madrid per 3-1 contro il Tottenham Tottenham che ha giocato 3 o 4 finali se non erro tutte perse non è stata in grado di vincerle nemmeno una mentre la Conference League viene vinta per 3-0 contro il Nizza dal Manchester United Manchester United che solo un paio di anni fa si era giudicato la Coppa dei Campioni ragazzi e il capocannoniere della stagione 2029-2030 della Champions League è Savarino del Milan perché si chiude a pari merito con Mount del Chelsea Isaac delle Sester e Torres del Manchester City tutti a quota 7 gol ma Savarino è l'unico l'unico dei quattro che li segna in appena si fa per dire 10 incontri in Europa League al primo posto chiude Cialov del CSKA di Mosca con 9 reti in 10 partite e in Conference League Dembele del Nizza e Hop del Braga chiudono a 9 reti ma per il discorso delle partite giocate Hop sarà il nostro capocannoniere del 2029 2030 andiamo quindi con il resoconto di tutti i dati che abbiamo raccolto in questa simulazione e i dati dicono che sostanzialmente c'è un grandissimo equilibrio nelle coppe europee ci hanno detto che non c'è una regina una squadra regina né in Champions League né in Europa League né in Conference League perché ogni anno queste competizioni sono state vinte da squadre diverse se vogliamo proprio andare a leggere i dati statisticamente dobbiamo dire che in Champions League la squadra con più vittorie è il Borussia Dortmund con due a seguire tutte le altre che non sto di certo a delencarvele in Europa League la squadra con più vittorie è l'Atletico Madrid sempre con due vittorie mentre in Conference League la squadra con più successi è la Roma per quanto riguarda invece le statistiche sui capocannonieri abbiamo che Salah nell'anno 2025 2026 chiude con 11 reti e è il miglior score in assoluto delle nostre simulazioni per quanto riguarda la Champions League per l'Europa League Durant nel 2024 2025 ne segna ben 11 ed è questo il miglior risultato di reti realizzate in una stagione di Europa League e sempre Durant nell'anno 2025 2026 ne segna ben 14 in UEFA Conference League ovviamente quasi tutte le squadre italiane sono riuscite ad aggiudicarsi un trofeo europeo che sia Champions che sia Europa League o che sia Conference League quasi tutte tranne la Juventus ovviamente ragazzi perché FIFA è un gioco del cavolo con delle schematiche completamente sballate ma le tradizioni vanno rispettate assolutamente per par condicio ragazzi devo dire che anche il Napoli non ha vinto nessuna competizione europea sono rimasto inoltre molto stupito dal fatto che il Real Madrid non abbia mai vinto la Champions League ma non solo non ha mai vinto neanche l'Europa League e la Conference League ragazzi per il resto sono tutti risultati che più o meno ci possono stare ci sono state qualche sorprese qua e là ma sinceramente tutto sommato ci può anche stare anche per questo video siamo giunti al termine ragazzi come al solito lasciate un like al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove uscite e scrivetemi giù nei commenti qual è la prossima simulazione che vorreste vedere noi ci vediamo al prossimo video are you ready ciao